Salve a tutti bella gente e benvenuti in questo nuovo video, video nel quale come avete visto dal titolo e visto le tante richieste nei commenti vi andrò a dire quante rigenerazioni fa la mia vettura e ogni quanti chilometri, visto che adesso utilizzo il diesel HW. Come tutti sapete o per chi non lo sa io utilizzo il diesel HW ormai da all'incirca oltre 5.000 chilometri e devo dire che non mi sto manco trovando male. Ci tengo a specificare che per avere il meglio da questi motori qui bisogna farne un certo utilizzo, tant'è che trovate anche un video sul canale dove parlo dei motori a gasolio e dove dico se convengono ancora questi motori a gasolio. Vi lascio comunque il link del video in descrizione. Per avere il meglio da questi motori a gasolio bisogna utilizzarli in contesti autostradali, in contesti di strade molto scorrevoli e bisogna comunque macinare chilometri. Perché questi motori per far sì che siano a un ottimo regime di utilizzo, a ottime temperature di utilizzo, bisogna che girano tanto. Perché il motore a gasolio dalla sua produzione ha avuto sempre bisogno di lavorare a temperature elevate. Lo saprete tutti. Il gasolio per far sì che il diesel esploda, il diesel prenda fuoco, non ha bisogno di un componente che gli dia la scintilla, ma questa cosa qui la attua attraverso la pressione. Le pressioni sui motori a gasolio sono molto più elevate rispetto ai motori a benzina. Detto ciò però ritorniamo al mio formentor e al fatto che io utilizzo il diesel HV. Facciamo delle premesse che io ultimamente la vettura l'ho utilizzata parecchio in contesti autostradali dove la rigenerazione che fa il motore non la puoi vedere. Perché non impatta sui consumi, non impatta sull'andamento della vettura, non impatta su niente. Perché in contesti autostradali, soprattutto su lunghi percorsi, quando la vettura fa le rigenerazioni non ve ne accorgete nemmeno. Quando state a 140 fisso, io parlo per me perché sotto i 140 io in autostrada non ci sto, salvo traffico e altri impedimenti, non vi accorgete minimamente che la vettura è entrata in rigenerazione. Vi accorgete quando la vettura entra in rigenerazione quando fate percorsi urbani, percorsi cittadini, quindi velocità molto basse oppure stop and go nel traffico. Perché quando la vettura è in rigenerazione nel traffico vi accorgete che i giri in motore stanno ai mille giri. Oltre a questo il rumore del motore è più cupo, quindi lo sentite. Un'altra condizione che vi permette di accorgervi che il motore è in rigenerazione, soprattutto in città, è che il motore stando a giri più elevati, quindi intorno ai mille giri, qualcosina anche oltre, è anche molto più pronto nelle fasi di partenza, proprio perché sta a giri più elevati. Tornando a me, al fatto che utilizzo il diesel HV nei contesti dove utilizzo io la vettura, fate conto che faccio 20 km ad andare, 20 km a tornare a casa dal lavoro, vi darò le varie rigenerazioni, ovvero ogni quanti chilometri fa le rigenerazioni, la mia vettura secondo il mio utilizzo. Queste rigenerazioni vanno anche in base all'utilizzo che ne fa una persona della propria vettura, che sia con il diesel HV o con il diesel normale. Nell'utilizzo che ne faccio, la vettura entra tranquillamente in temperatura, faccio percorso molto scorrevoli, perché a parte due rotatorie che ho nel tragitto, sono percorsi comunque scorrevoli, con una velocità media intorno ai 50-60 km orari, visto che ci sono alcuni picchi a volte dove trovo un po' più traffico e quindi si va dai 40 ai 60 km orari, invece quando non trovo traffico riesco ad avere velocità anche intorno ai 100 km orari. In questo utilizzo qui la mia vettura con il diesel HV entra in rigenerazione più o meno ogni 250-270 km. Se poi andiamo a fare un utilizzo più scorrevole, più autostradale della vettura, ho notato che le rigenerazioni entrano ogni 300-300 qualcosina a chilometri. Che devo dire, rispetto all'utilizzo che ne facevo prima con il diesel normale, l'utilizzo è anche un po' cambiato, quando utilizzavo il gasolio normale, le rigenerazioni le avevo ogni 300-320 km. Questo perché comunque facevo un utilizzo un po' più spinto della vettura, erano sempre comunque percorsi misti, quella volta facevo un 60% lo scorrevole e un 40% città, ma i chilometri in cui facevo lo scorrevole erano di più e riuscivo a ammortizzare del più utilizzo città con il percorso più lungo in extraurbano. E nonostante utilizzassi un diesel normale, avevo le rigenerazioni con un intervallo di chilometraggio più ampio. Attualmente, per l'utilizzo che ne faccio, le rigenerazioni sono queste. Devo dire che se utilizzate il diesel HW soprattutto per viaggiare, questo ve lo posso confermare perché ho fatto parecchi chilometri dall'ultimo tagliando, devo dire che utilizzare il diesel HW per i viaggi è molto più conveniente rispetto al diesel normale. Perché ho notato che ha velocità molto alte, questo ve lo avevo accennato anche in altri video, quando ho parlato del diesel HW. Il diesel HW dà il meglio di sé, diciamo che consuma leggermente di meno ad alte velocità, però parliamo di velocità oltre il codice autostradale, quindi oltre i 140 soliti miei. Questa cosa qui penso sia dovuto ai maggiori città che ha il diesel HW in confronto al diesel normale. Non parliamo di consumi minori in quantità esorbitanti, quindi non è che è una differenza che impatta così tanto. Diciamo che comunque su un percorso magari parecchio lungo, di oltre 1000 km a tratta, in quelle condizioni lì si potrebbe vedere effettivamente il consumo. Parliamo di velocità oltre il codice stradale, quindi andreste contro la legge. Ciò che io non consiglio alla gente, perché vi ricordo che noi camminiamo con le nostre vetture, ma lo facciamo sempre in assoluta sicurezza, non utilizzando il telefono, non distraendoci e soprattutto lo facciamo in contesti autostradali dove comunque lo sappiamo che è possibile. È ovvio che non mi metto a fare slalom tra le vetture per andare veloce, vado veloce dove comunque vedo che l'autostrada è vuota e l'autostrada è a tre o più corsie. Detto ciò ragazzi, tornando alle rigenerazioni classiche, per me, per l'utilizzo che ne facevo precedentemente con questo diesel HW ho rigenerazioni più frequenti, ma non impatta sui consumi, non impatta sul tagliando della vettura, anzi devo dire che il tagliando forse diminuisce meno rispetto al diesel normale. Questa cosa qui perché il diesel HW permette di ripulire la camera di combustione e oltre a questo il diesel HW diciamo che viene bruciato completamente del tutto rispetto al diesel normale. Altra cosa positiva che ho notato con le rigenerazioni con questo diesel HW è che le rigenerazioni sono molto meno lunghe, ovvero adesso la rigenerazione la vettura la fa in 10-15 km. Ciò che con il diesel normale avveniva in 20-25 km e questa cosa qui ve la posso confermare perché ho proprio guardato i chilometri per cercare di darvi un dato preciso. Detto ciò ragazzi io spero che questo video vi sia stato utile, un sacco di persone mi hanno chiesto questa cosa qui delle varie rigenerazioni, devo dire che ancora sto utilizzando il diesel HW, come mi aveva scritto qualcuno di voi sotto nei commenti nel video precedente sul diesel HW, effettivamente i prezzi poco dopo l'uscita del video sono aumentati, tant'è che adesso il diesel HW costa solo 5 centesimi in meno rispetto al diesel normale. Ma io dico, visto che si hanno parecchi benefici, visto che cerchiamo di inquinare il meno possibile e visto che a quanto pare, devo dire, si hanno diversi aspetti positivi con questo carburante qui, perché farlo costare poco meno rispetto al diesel normale? Se vogliamo avere una transazione ecologica, se vogliamo ancora utilizzare i diesel e comunque vogliamo cercare di spronare le persone a fare un giusto utilizzo del diesel, perché fare costare questo diesel come il diesel normale oppure poco meno? Io inviterei i vari produttori di questo carburante a farlo costare di meno e a cercare di dare dati il più attendibile possibile su questo carburante qui, in modo tale da incentivare l'utilizzo di questo carburante qui, ovviamente inviterei anche le case madri produttrici delle vetture a gasolio, che facciano sì che questo gasolio sia utilizzabile sulla maggior parte delle loro vetture o se non su tutte le vetture. Infatti spero che la sostituta della Formentor potrà utilizzare questo carburante, non tanto per i costi, perché effettivamente alla fine se andassi a fare il gasolio normale o diversi distributori vicino a casa dove il costo del diesel normale non è nemmeno poi così tanto superiore rispetto al diesel HV, nonostante questo costa 5 centesimi in meno, però questo costa 5 centesimi in meno alle stazioni Eni, perché in questo momento nella zona mia solo le stazioni Eni vendono questo diesel HV. E ci sono altri competitor di Eni che fanno costare il diesel normale poco più rispetto al diesel HV, ma mai come il diesel normale che troviamo all'Eni. Detto ciò ragazzi io spero che questo video vi sia stato utile, per quelli che siete scettici a utilizzare questo carburante non saprei cosa dirvi, in questi oltre 7 mila chilometri di utilizzo di questo carburante vi devo dire che la vettura ha avuto solo benefici. E oltre a questo tantissime persone mi stanno scrivendo nei vari video del diesel HV che stanno utilizzando questo carburante da molto più tempo di me e qualcuno mi dice che nel nord Europa questo carburante era molto più diffuso parecchio tempo prima, ognuno tragga le sue conclusioni, ognuno veda le proprie esigenze. Detto ciò ragazzi vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, Fatemi sapere la vostra per quanto riguarda i vari carburanti o qualsiasi cosa. Grazie di aver visto questo video, iscrivetevi al canale, lasciate like, condividete i video se vi va. Grazie per la visione, arrivederci e al prossimo video.